Ciao cari amici, negli Stati Uniti d'America si sta sollevando una grande preoccupazione, in pratica nel mondo politico c'è un enorme dibattito e al centro di questo dibattito c'è la partecipazione degli Stati Uniti alla Nato. In pratica di recente l'ex consigliere per la sicurezza nazionale di Donald Trump, che si chiama John Bolton, ha rilasciato diverse interviste, l'ultima di queste interviste l'ho rilasciato ieri, e anche ha fatto le dichiarazioni pubbliche durante le sue apparizioni televisive. E in queste dichiarazioni, in questa intervista di ieri, lui ha toccato un tasto molto importante, un tasto che possiamo chiamare doloroso per quella parte degli Stati Uniti d'America, per la parte di oligarchia statunitense, che guadagna enormi quantità del denaro sulla Nato, sul sistema della Nato, sulla guerra, sulla produzione delle armi, perché Bolton ha avvertito dei piani di Trump di ritirare gli Stati Uniti d'America dalla Nato. È una cosa reale, abbastanza, secondo l'ex consigliere per la sicurezza nazionale presso il governo Trump, John Bolton, c'è una seria possibilità che Donald Trump, quando diventerà presidente degli Stati Uniti, di nuovo, farà di tutto per far uscire il paese dalla Nato. Secondo Bolton, Trump potrebbe prendere in considerazione l'idea di lasciare Alianza del Nord Atlantico per via delle proprie convinzioni politiche ed economiche. Bolton ha sottolineato che, nonostante la convinzione diffusa che tale dichiarazione di Trump sia solo uno strumento di negoziazione politica, lui personalmente è anche un gruppo cospicuo di persone che fanno parte dei funzionari del potere statunitense e sono propensi a prendere sul serio le dichiarazioni di Trump. Bolton ha detto che ha ricordato la situazione nel 2018 quando Trump si era già espresso a favore dell'uscita dalla Nato e non l'ha fatto in maniera propagandistica, l'ha fatto sul serio, sostenendo che gli stati aliati europei non avrebbero dovuto contare sul sostegno degli Stati Uniti pur continuando a condurre scambi commerciali attivi con la Russia, soprattutto nel contesto del progetto Nord Stream. Quindi, secondo Bolton, il desiderio di Trump di una linea più dura riguardo al Nord Stream e ad altre questioni commerciali non deriva tanto da considerazioni ideologiche quanto dal desiderio di fare pressione sui paesi europei, in particolare sulla Germania. Questo approccio, ritiene Bolton, mira a indebolire la Nato e a punire gli aliati statunitensi per aver, secondo Trump, costretto gli Stati Uniti a fermare gli accordi commerciali sfavorevoli. Questa notizia ovviamente attuonata per l'ennesima volta. Negli Stati Uniti d'America in realtà parlano abbastanza spesso di questa situazione e ovviamente qua si tratta, cari amici, di un conflitto basato sui soldi che sempre mancano. Gli Stati Uniti d'America che ha per anni sfruttato il sistema, il meccanismo della Nato come un proprio sistema di controllo, di dominio e anche, se vogliamo, di spicolazione politica, adesso si rende conto che questo meccanismo, ormai abbastanza obsoleto, sta diventando troppo costoso. I paesi occidentali, i sudditi degli Stati Uniti d'America, fanno difficoltà di mantenere questo paese, questo, perdonatemi, accordo, questo sistema, la Nato con i sussidi provenienti dalle proprie casse. Mancano soldi, Nato è un enorme meccanismo, ha bisogno di una costante situazione di guerra. La Nato può essere alimentato solo dalle situazioni di guerra, però le situazioni di guerra nel mondo a favore dell'economia statunitense si stanno diminuendo. Si stanno diminuendo per quale motivo? Perché dal punto di vista strategico e anche economico, Stati Uniti stanno passando dalla posizione di sceriffo del mondo, di egemone, verso una posizione di uno dei tanti paesi nel mondo ormai multipolare. Piace a qualcuno, a non piace, l'esistenza del mondo multipolare, però stiamo ormai parlando di una realtà oggettiva. Magari ognuno di noi può credere di essere il re Luigi di Francia, però quando esce per strada, nella realtà oggettiva, nel mondo reale, fuori dalle proprie fantasie, fuori dalle proprie convinzioni, scopre di essere un semplice pinco pallino, come tanti altri che camminano per strada. E ovviamente, se vuole vivere una vita serena ed equilibrata, deve costruire e fondare il proprio atteggiamento nella società in base alla realtà oggettiva. E' molto pericoloso uscire per strada nel mondo reale con una corona in testa e iniziare a pretendere che tutti gli altri ti trattano come re Luigi di Francia, perché secondo me si può rimediare anche uno schiaffo in faccia da qualcuno. Questa è un po' la situazione descritta così in maniera approssimativa e ciò che sta adesso vivendo il mondo anglosassone e soprattutto gli Stati Uniti d'America. Da una posizione di dominio che Stati Uniti d'America hanno iniziato a mettere in pratica a partire dalla Seconda Guerra Mondiale, ma soprattutto dalle anni Sessanta del secolo scorso, loro sono arrivati a una totale sconfitta su tutte le linee di fronte geopolitico. Adesso loro non sono più il paese più grande, più importante, più forte, più potente del mondo. Loro diventano uno dei tanti, ovviamente sempre rimane un grande, un gigante internazionale, lo ha detto anche Putin. Putin recentemente ha detto che nel mondo multipolare gli Stati Uniti d'America comunque rimangono un grande paese, una superpotenza, però non è più da sola, non è una superpotenza, come dire, che domina gli altri. Adesso ci sono altre superpotenze che dal punto di vista economico, tecnologico, ma soprattutto militare, sono molto più avanti degli Stati Uniti d'America. E questo si vede, si nota in vari scenari, anche lo scenario ucraino ha dimostrato un totale limite e la mancanza degli Stati Uniti d'America, dell'Inghilterra e soprattutto della Nato. E ovviamente in questa situazione noi arriviamo a un ragionamento che sicuramente molti in Occidente esprimano, ovvero a che cosa serve la Nato. Cioè se noi nella Nato ci mettiamo tutti insieme per garantire i nostri interessi è un conto. Se invece noi ci mettiamo tutti insieme per sacrificare i nostri soldi, i nostri interessi, la nostra libertà, la nostra sovranità, per garantire agli Stati Uniti d'America la possibilità di giocare a sceriffo del mondo per prossimi dieci anni, non so quanto è consono un simile comportamento, finché i paesi occidentali sono rappresentati da governi fantocci come ad esempio quello italiano, oppure quello francese, oppure quello tedesco, oppure gli altri governi fantocci che non sono in grado di difendere e rappresentare gli interessi dei cittadini, ma che sfruttano semplicemente la propaganda, becera propaganda del regime oligarchico per convincere oppure costringere i popoli di rifiutare i propri interessi per lavorare negli interessi appunto degli oligarchi anglosassoni, allora la Nato probabilmente potrà ancora esistere, ma più persone prendono coscienza, più cittadini prendono coscienza, e più cambierà anche la rappresentanza politica e più si allontanerà la prospettiva del mantenimento della Nato. Ovviamente Stati Uniti d'America capiscono tutto questo. A loro la Nato serve solo se il mondo occidentale, cioè i loro sudditi occidentali, pagano agli americani per mantenimento di questa struttura, perché la Nato in pratica è una specie, un pretesto per un pizzo mafioso, cioè ciò che noi paghiamo per la Nato è un pizzo mafioso. Noi, ad esempio, italiani, siamo una nazione che è stata conquistata militarmente e i nostri conquistatori, che sono gli Stati Uniti d'America e gli inglesi, a parte dopo aver devastato l'Italia dal punto di vista di industria, dopo aver derubato l'Italia, grazie anche agli italiani, grazie anche ai nostri rappresentanti, ai nostri politici, grazie alla nostra elite economica, finanziaria, perché ad esempio senza collaborazione con grandi industriali italiani non sarebbe stato possibile derubare, spogliare l'Italia delle industrie, se in Italia le industrie fossero rappresentati da uno Stato forte, uno Stato sovrano, uno Stato che difende i propri interessi, i interessi dei propri cittadini, ma con cavolo che gli inglesi e gli americani ci dicevano come dobbiamo fare, se l'Italia avesse dei personaggi come ad esempio Mattei, che è stato ammazzato appunto dalla CIA, da americani, da traditori qua in Italia, italiani avrebbero potuto di strutturare una loro politica economica con chi li pare, con i russi, con egiziani, con algerini e noi oggi probabilmente il gas e il petrolio lo pagavamo molto di meno di quanto siamo costretti di pagare grazie alla criminale politica di questi farabutti anglosassoni, di questi zerbini che le rappresentano, che noi abbiamo nel governo italiano. Comunque, il problema principale della Nato è che la Nato per gli americani non è più una fonte di reddito, ma sta diventando pesante perché richiede i soldi. Sapete, è una situazione abbastanza grave perché gli americani hanno una mentalità imprenditoriale, commerciale. Per gli americani non esiste importanza dal punto di vista di idee, di convenzioni, valori o cos'altro. Loro non hanno niente di tutto ciò. È una civiltà, quella anglosassone, che è nata dalla pirateria, nella periferia del mondo, cioè danneggiamo gli altri, derubiamo gli altri per star bene noi. Questa è la prima regola. E poi, su base di questo, creiamo anche un rapporto commerciale, però il commercio sempre speculativo e dannoso. Cioè, se noi commerciamo, noi commerciamo attraverso le rotte che controlliamo noi e quindi noi dettiamo le regole. Se un paese come India ha un prodotto come il tè, io adesso faccio un esempio abbastanza sereno per non parlare di droghe, per non parlare di idrocarburi e altri materiali, parliamo del tè. Se India ha il tè, non può commerciare il tè perché le rotte commerciali le controlliamo noi. Quindi indiani sono costretti di diventare nostri schiavi economici. Questa, in grande linea, è l'atteggiamento anglosassone, l'inglese e anche il britannico e anche quello statunitense nel mondo. E ovviamente adesso il mondo cambia, adesso questo atteggiamento non funziona più come una volta e la struttura che è stata creata all'interno di questo di questo ambiente, di questo atteggiamento non può più essere mantenuta così come veniva mantenuta prima. Bisogna sborsare i soldi. Trump non vuole sborsare i soldi, quindi lui non vuole la Nato. Lui preferisce uscire dalla Nato perché è pragmatico, perché è un personaggio incentrato sulle forze oligarchiche basate fortemente sul segmento industriale all'interno degli Stati Uniti e diciamo lui si mette all'opposizione contro un sistema oligarchico speculativo finanziario che è stato creato negli Stati Uniti proprio come uno strumento di gestione di questa propulsione speculativa geopolitica basata sulle conquiste basata sullo sfruttamento degli altri paesi e ovviamente adesso quando questi strumenti diventano di meno non è che Trump un buon rivoluzionario che è arrivato per il bene del mondo no semplicemente è uno sobrio che vede come un strumento di arricchimento ormai non funziona più e quindi lui sostiene quello che lui sicuro che funzionerà per poter continuare a guadagnare i soldi per cui qua non è problema di ideologia qua è un problema di una razionalità economica quindi per Trump sostenere la Nato economicamente non è più razionale lui vuole seguire un altro modello e ovviamente questo spaventa quelli che continuano ad essere attaccati all'idea della Nato quelli che sono abituati a prendere i soldi solo dal fatto che esiste la Nato questi non lavorano non fanno niente loro sono abituati di essere grandi vincitori della seconda guerra mondiale nel 49 abbiamo fondato la Nato quindi tutti ci dovete dare i soldi perché adesso questo è il nostro diciamo pretesto per ricevere i vostri contributi a distanza di parecchi anni ovviamente la gente ormai si è stancata a pagare a loro il mondo sta cambiando e ovviamente adesso all'interno degli Stati Uniti ci sono questi discorsi comunque è molto importante che questa cosa immerge perché ci fa capire che il mondo occidentale è ormai ormai rientrato nella fase del proprio collasso collasso cari amici dal punto di vista strutturale perché collassa la struttura occidentale non perché le occidentali non sono capaci non perché l'occidente è corrotto sono tutte cose che si verificano certo in parte ma la cosa principale è che la struttura occidentale non può più esistere in un mondo moderno non è più adatta non ha più logica per esistere nel mondo moderno per quanto i propagandisti occidentali cercano di sforzarsi per convincere i cittadini occidentali di accettare la loro falsa narrativa su ciò che avviene nel mondo il mondo ormai è cambiato e voi non potete mai spiegare a un russo a un cinese a un indiano a un arabo per quale motivo loro devono dare qualcosa a gratis agli occidentali per quale motivo loro devono servire agli occidentali per quale motivo loro devono accettare da parte degli occidentali un comportamento arrogante questo ovviamente nessuno del mondo non vuole più accettare capire e comprendere l'occidente viene visto dalla gran parte del mondo libero ormai come un individuo malato un individuo arrogante viziato violento che adesso nella fase del proprio declino sta cercando di distruggere e danneggiare i propri vicini creare massimo possibile di problematiche perché non vuole cambiare la propria struttura cioè lui vuole continuare a rimanere malato e nella sua malattia vuole infettare anche gli altri e questo anche si nota dal comportamento di diversi paesi ad esempio adesso per farvi un esempio i 3 miliardi di euro promessi da Macron per l'Ucraina creano un enorme problema di bilancio per la Francia questo per non parlare dell'Italia parliamo di Francia un paese diciamo vicino all'Italia un paese che ultimamente è finito anche come sapete nei notiziari perché Macron improvvisamente si è cercato di improvvisare di essere Napoleone ha detto che manderà 2.000 militari in Ucraina poi i suoi generali hanno detto in diretta televisiva che invece manderanno 20.000 militari hanno mandato già i mezzi hanno mandato già vari specialisti della Nato quindi si tratta di un paese che attivamente partecipa alla guerra la Francia è anche entrata in una fase di diciamo relazioni poco amichevoli poco serene con gli Stati Uniti d'America e anche con la Germania quindi stiamo parlando di una vera e propria frattura tra gli aliati e vediamo perché questo è avvenuto all'interno della Francia ci sono dei problemi sempre si tratta dell'economia di soldi la Francia è un paese colonialista la Francia è un paese che ha creato la propria fortuna la propria struttura il proprio benessere in base alle politiche colonialiste quindi devastando distruggendo gli altri mondi ha creato il proprio mondo ha strutturato il proprio mondo adesso quando non può più impegnare l'esercito e i militari per danneggiare gli altri si trova in difficoltà l'aiuto militare comunque di 3 miliardi di euro all'anno per l'Ucraina previsto dall'accordo sulle garanzie di sostegno che Macron ha fermato il 16 febbraio con Zelensky crea però grattacapi al governo francese perché è costretto a tagliare i costi su diverse voci e a ricorrere a varie misure e a vari trucchi contabili in pratica sta derubando i propri cittadini sta togliendo i soldi ai propri cittadini sta mettendo in difficoltà anche intere categorie dei cittadini come ad esempio agricoltori che sono tra i più danneggiati ma anche i lavoratori e già a febbraio il ministro delle finanze francese aveva annunciato la necessità di tagliare la spesa di 10 miliardi di euro sapete cosa significa cari amici significa per i francesi ovviamente un periodo ancora più pesante dal punto di vista economico perché per gli interessi legati alla guerra organizzata dagli Stati Uniti d'America sul territorio dell'Ucraina contro la Russia in questo contesto la spesa per l'Ucraina ovviamente solleva tra gli elettori abbastanza diciamo importanti interrogativi molti diputati del partito filo presidenziale che si chiama Revival hanno diciamo affermato che non hanno la maggioranza ovviamente in Parlamento questo partito hanno già affermato che questo è un grave problema è un problema che viene sollicitato da molti questo è un piccolo esempio che noi possiamo prendere sulla situazione in Francia che indirettamente cari amici non è che sono tutti i processi direttamente legati alla Nato sono in realtà si tratta di processi molto più complessi con una struttura molto più complicata e difficile ma sono sicuramente amici i processi che riportano all'indebolimento della struttura della Nato e alla domanda a che cosa serve questa struttura ormai molti in occidente capiscono che la Nato non è nient'altro che un pretesto per continuare a dare un tributo agli Stati Uniti d'America un tributo in forma economica militare che però costa molto ai paesi che sono coinvolti in questa enorme mega truffa mafiosa per questo motivo cari amici nella negli Stati Uniti d'America inizia seriamente alzarsi la discussione sulla necessità di mantenere la Nato Trump probabilmente quando diventerà se diventerà il presidente del paese se non lo ammazzeranno prima se non succederà qualche colpa di scena prima di novembre cari amici ci vuole ancora ci sono ancora tanti mesi bisogna arrivare e voi sapete che negli Stati Uniti d'America può succedere di tutto è un paese dove hanno ammazzato Kennedy dove hanno buttato giù le torri dove sono accaduti le cose diciamo nei quali nessuno poteva mai credere e che nessuno poteva prevedere quindi prima che Trump arrivi al potere ancora ci deve passare l'acqua sotto i ponti però intanto noi possiamo vedere che già negli Stati Uniti il tema della diciamo importanza del mantenimento della Nato o l'uscita dalla Nato inizia a essere un tema che viene sollevato vuol dire che quando arriverà Trump sicuramente sarà tra le tematiche più importanti che Trump affronterà per primo e io non credo che per la Nato ci saranno i bei tempi anche perché ciò che sta accadendo adesso in Ucraina tutta la dimostrazione della mancanza della struttura della Nato dell'incapacità della struttura della Nato di svolgere qualcosa di utile dal punto di vista operativo in una guerra che ha una struttura cari amici tattico locale non è una guerra aperta questa è una guerra che una struttura come la Nato avrebbe dovuto poter finire con la vittoria del blocco della Nato in pochi mesi però la Nato non è stata in grado di mettere in campo nessun tipo di strategia realmente efficace vuol dire che la Nato è debole non è in grado di affrontare la Russia tutti i mezzi tutto il sostegno tutti i consiglieri militari tutta la strategia che la Nato ha applicato in Ucraina sono risultati fallimentari la Nato non è in grado di affrontare la Russia sul campo aperto e questo noi vediamo ripeto nel conflitto che ha una caratteristica tattico locale immaginate quando il conflitto diventerà strategico quando il fronte si allargerà quando la guerra prenderà le dimensioni di quello che una volta era la seconda guerra mondiale quando si schiereranno le truppe le armate che supereranno diversi milioni di esseri umani e quando i mezzi militari e le macchine belliche entreranno in massa sui campi di battaglia quando inizieranno volare i missili strategici noi ci troveremo sicuramente in una situazione abbastanza drammatica per colpa della Nato quindi io vi invito a tenere questa questione sotto attenzione perché in questo periodo particolare di tempo dal punto di vista di valutazione geopolitica l'esistenza della Nato è abbastanza sotto diciamo pericolo se si può dire quindi attenzione a questa a questa tematica amici se volete approfondire se volete conoscere le notizie che il nostro mainstream i nostri giornalisti i vari finti esperti i vari analisti non vi raccontano io come sempre vi invito di abbonarvi al mio canale privato Telegram il link per abbonamento si trova nella descrizione questo video troverete tantissimo materiale che nell'occidente non si può divulgare per via della censura di questi beceri propagandisti anglosassoni se volete sostenermi qua su youtube io come sempre vi invito di iscrivervi al mio canale di commentare i miei video di condividere i miei video con i vostri amici inoltre io vi ricordo che in tutte le librerie d'italia c'è il mio libro che si chiama la guerra e l'odio lo vedete qua alle mie spalle in questo libro io ho raccontato le origini della guerra ucraina se vi interessa come quando da chi e in che modo è stato organizzato questo terribile sanguinoso conflitto che ormai ci riguarda tutti io vi invito di approfondire la lettura e poi magari fatemi sapere nei vostri commenti cosa pensate amici grazie per la vostra attenzione grazie per la vostra vicinanza per il vostro supporto per le vostre donazioni per le vostre parole per la condivisione di vostri opinioni e i vostri punti di vista per me tutto questo è molto importante io vi mando un forte abbraccio fraterno e vi voglio bene grazie grazie Grazie.